Partiamo dall'atteso faccia a faccia tra l'assessore della sanità Armando Bartolazzi e la commissione regionale competente. Un incontro definito dall'assessore, che non ha voluto il confronto diretto con i cronisti, proficco e molto importante, necessario a instillare un dialogo costante con il consiglio regionale in cui sono emersi intenti comuni sull'approccio ai problemi unanimemente riconosciuti. Da qui l'accordo con la presidente della commissione, Carla Fundoni, per un vertice con cadenza mensile. Il secondo step ha riguardato l'emergenza idrica in Baronia, con l'impegno della presidente Todde all'istituzione di un tavolo permanente per monitorare l'andamento delle soluzioni proposte. Durante l'incontro è stata rimarcata dagli amministratori della Sardegna al nord orientale la grave emergenza idrica che stanno affrontando le campagne e i centri abitati del loro territorio. Una preoccupazione non solo dei sindaci ma anche degli operatori turistici in vista dell'imminente apertura della stagione. Nel frattempo la novità assoluta dell'istituzione presso il gabinetto della presidenza della regione dell'ufficio legislativo composto da un rappresentante per ogni singolo assessorato designato dall'assessore in carica tra gli esperti in materia giuridica con competenze legislative. Andiamo avanti. Oltre 4 milioni di euro sono stati ripartiti in favore dei comuni maggiormente oberati dalle servitù militari della Sardegna. A seguire l'assessore alla programmazione al bilancio Giuseppe Meloni ha ufficializzato l'approvazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2023 che ha evidenziato un avanzo di cassa di oltre mezzo miliardo di euro. L'assessore ha chiarito che l'amministrazione utilizzerà queste risorse economiche solo dopo le verifiche della Corte dei Conti per non incorrere negli stessi errori della precedente legislatura. La Presidente ha comunicato gli interventi 2024 in favore della cooperazione internazionale per un importo complessivo di 850 mila euro, di cui 400 mila per l'erogazione di contributi in favore degli enti locali e delle università e 450 mila in favore delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato in attività nell'isola.